C'è stato qualche malinteso, è stato bello oggi chiarire, a fine partita anche ho chiarito tutto e quindi mi è fatto piacere che comunque mi hanno fatto i cori, è una cosa bella, ci tenevo a chiarire e ci tenevo a tornare perché andare via dopo aver avuto dei frischi l'ultima giornata, che magari non meritavo tanto, però ci sta, nel calcio che sai, i tifosi possono fare quello che vogliono. E quindi la mia intenzione è stata sempre quella di tornare, di rindossare questa maglia e di dimostrare a loro che comunque quelle piccole paroline che mi sono state dette in occasione di qualche rigore sbagliato, io non le meritavo e non le merito. E quindi sono qua per dimostrare a loro tutto il mio amore che ho per loro e per il calcio, perché chiediamo il calcio, quindi mi piace divertirmi. Questa Cosenza ha bisogno di tutti, se tutti remiamo la stessa parte, se tutti siamo pronti al sacrificio, alla compattezza, a tutto quello che serve per portare a casa il risultato e allora poi magari i singoli vengono fuori con l'aiuto di tutta la squadra. E quindi secondo me quelle sono le basi per costruire una squadra forte. L'obiettivo mio è quello di fare bene, di fare il bene del Cosenza e di migliorarmi giorno dopo giorno, quello è il mio obiettivo.